Sì? No? Come no? Ma ci stiamo a 40 gradi o no? Mi sa che ci avviciniamo. Ci arriveremo, dai, ci arriveremo. Scandiamo pure noi un po' la serata, dai. Questo brano è il pezzo più famoso dei Kiss, se ci date una mano. Aiutateci a cantarlo, dai. Questo va così. Voi! Yeah! Yeah! Oh, yeah! Woo! Let's go! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti